Non mi resta altro da fare. Andiamo! Abbassati! In questo singolo colpo, io metterò tutto me stesso! Non sta funzionando! No, sembra che tu sia riuscito a respingere il meteorito. Davvero? No, scusa, avevo visto male. Stupido vecchio! Mancano nove secondi. Ehi, nonnino, pensa tu al ragazzo. Tu non cadrai! Sulla mia città! Capito? Sta trollando! Sì, e non soltanto questo edificio. Ecco fatto, problema risolto. Sulla mia città!